buongiorno oggi finalmente ripartono le prove ciao c'è un bel buongiorno oggi si riparte il caffè ci vuole per ripartire nel frattempo il caffè sta in frigo noi ci svegliamo con un bel caffè e ci vediamo dopo benvenuto alla bassista degli equilibri o ragazzi noi iniziamo in duo quindi ci hai provato a fare questa cosa si ma la non ce l'ho fatto vai 1 2 2 4 5 5 5 grazie grazie sei pronto? a provare buon poveriggio Tony come va? bene dopo tre mesi si ritorna a fare due note che cosa meravigliosa è una cosa meravigliosa come va poi? tutto bene grazie come stai? bene ma il brano come si chiama? il progetto 20 no secondo me il poppa ah il poppa si quindi i poppa scelte io penso a vedere grazie quadiesis ok vada re bemolle va? si si maggiore si maggiore re bemolle poi hai detto si maggiore si maggiore re bemolle maggiore re bemolle maggiore re bemolle maggiore tale e quale? esatto re bemolle e questo questa è la seguente è una serie chelsea inscrizione che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, è finita. Ciao. Perché alla fine... La giornata è finita, si torna a casa con gli occhiali appannati. Ciao. Ciao. Ciao, vi. Ciao, vi. Bye. Ragazzi, la giornata è finita. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del brano, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanella così rimanete sempre aggiornati sui nuovi video e noi ci vediamo al prossimo video. Esatto. Ciao, agliù.